Amici lodatori del sole, bentornati sulla rubrica Happy Gamer, io come sempre sono felice e siamo con il nostro consueto appuntamento su Final Fantasy 8 se non avete visto gli scorsi episodi e lo scorso episodio vi invito ad andarli a vedere e facendo un breve riassunto, siamo qui per la nostra missione finale dell'esame SID siamo giunti alla torre di Dolet, la torre di comunicazione Dolet dove abbiamo visto degli strani movimenti dell'esercito di Galbadia si è unita al nostro team selfie, vedete, anche se Seifer appunto ci ha lasciato indietro ed è direttamente salito in cima alla torre io nel frattempo offline ho semplicemente come sempre raccolto alcune magie e sistemato un po' le junction soprattutto volevo farvi notare che in virtù di quello che ci attenderà tra pochissimo ho messo a Squall la junction Thunder per l'attacco elementale con la... insomma con la Gumblady insomma e niente, bando alle ciance e andiamo subito a vedere che cosa ci aspetta in cima a questa torretta insomma andiamo con questo ascensore possiamo andare su allora saliamo su no, stiamo qua, ci accampiamo e moriamo qua saliamo inquadratura suggestiva troppo bello questo ascensore non fare casino che cadi giù non cado, non cado mie vocine best for the win maggiore Bix un rapporto denuncia la presenza di un'entità sconosciuta al piano superiore della torre maggiore Bix silenzio, ora sono occupato allora questo va qui e accidenti questa torre è proprio malandata perché devo ripararla proprio io? signore, intanto faccio un giro di spezione ah, quello lì va così e così allora questo va di qua bene, questa è fatta e intanto arriviamo noi giù mi è sparito il terreno sotto i piedi è per integrare la cazzina è un po' altino, eh un po' tanto qualcosa mi dice che che è riuscito a ripararla che cosa super mega iper tecnologica no, ma vederlo così sembra un cannone ma in realtà guardate che figata guardate che figata oh pam parabolone per ricevere le partite di Sky in super alta definizione cosa stai facendo? e voi chi siete? cosa credete di combinare qua su? che fine hanno fatto i soldati che erano giù? witch sistema questi mocciosi witch il mio lavoro qua su l'ha finito quindi me ne vado fuori dai piedi ecco che riappare Cypher finalmente ma cosa diavolo credete di fare? taci secco proprio pronti? let's fight musica appassionante sentite proprio così penso non abbia nulla di inter ah qualcosa da assimilare che non abbiamo quindi cogliamo l'occasione che cos'è? protect no Esna Esna elimina gli status alterati quindi elimina veleno sonno mutismo qualsiasi altra cosa beh adesso non sto qui a prendere la tutela ne faccio prendere giusto un'unità qui a tutti a tutti i miei personaggi poi andiamo a pestare questo c'è un motivo eh per cui non c'è la musica e lo capirete eh non vi spoilero nulla pam selfie inutile come come un selfie nella vita reale lui non toglie molto ma c'è un motivo anche per questo non è un boss quindi diciamo meglio in teoria potrebbe esserlo lo vedremo presto è resistente però eh sto volutamente non sprecando esatto qua è arrivato il suo amico ha finito di riparare l'antella cosa ci fanno dei nemici qui Wedge dove è rifinito sembrano poi carabin le barzellette sui carabinieri no dovevo starmene a casa se non sbaglio se ricordo bene Wedge cura il suo amico se non non lo colpisco cioè non non faccio fuori prima lui quindi quindi ecco un evitare faccio io la musica paparaparapapapapapapapa paparaparapapapapapa papapapapapa papapapapa papapapapa anche se quella di Final Fantasy X fa niente maggiore siamo nei guai non portare sfortuna ma no sicura sicura una vicenda eh sì adesso Vabbè no a sto punto perché non farvi fuori entrambi Scusate senza offesa Senza offesa ragazzi eh ma Adesso vivi Sparo Ah ecco qua Ah ma cosa Ma salve Ecco chi era l'ospite In cima alla parabola eh E questo chi diavolo è Notiamo comunque che la musica non è partita A me peccato che ho usato Ifrit Questa è debole al tuono per questo ho messo L'elemento attacco A questal E vi dico anche un'altra cosa Possiamo assimilare Da questo boss un guardian force Cioè siren Quindi lo facciamo subito Poi lo equipaggeremo più avanti Ho ottenuto siren perfetto Beh Ifrit non farà molto Li darò anche un po' di supporto Questo quel poco che riesco Vedete che premendo Aumentiamo questo numero e Spam Eh beh non male comunque Un buon danno Relativamente insomma Agli altri Agli altri nostri personaggi Che non Utilizzeremo sempre questal Mentre agli altri faremo usare Thunder Dal momento come ho detto È debole al tuono Facciamo assorbire anche questo Ecco questal con tempesta di tuoni Mi farà un male Ma proprio un male Penso che il gioco Qui senza la musica Si sia buggato Perché teoricamente Dovrebbe esserci Però pazienza Qua nella versione di Steam Dato che il supporto Per il controller È abbastanza parziale Non hanno implementato Molto bene La ripetitività Del supporto Quindi se provo A fare una scarica Velocissima Non me la rileva Quindi insomma Dobbiamo accontentarci Di questi poveri numeri Se no avrei fatto anche Numeri molto molto più alti Ah la magia double Magia double Ragazzi mi conviene Assimilarla un po' Perché è davvero molto utile Permette Di castare Due spell consecutivamente Cioè due magie consecutivamente Quindi Quindi direi che è davvero Molto molto utile Tanto qui andiamo avanti Di questal A oltranto Senza problemi Soffio di tuono Questo farà un po' male Esatto Non eccessivamente Però comunque Diciamo che L'abbiamo sentito Ecco come danno Vabbè Assimila Assimila Tanto il danno Irrisorio Che li facciamo Possiamo fargli Con la magia thunder Lo compensa benissimo Anche questa Non è un problema Insomma Questo boss Si chiama Erbia Il nome Abbastanza Inusuale Io in teoria Sto anche già adesso Premendo molto più Più velocemente Di quello che in realtà Sta prendendo Quindi Probabilmente C'è Hanno fatto qualche problema Con l'ottimizzazione Magari Spererei In una faccia Ma Non sono molto fiducioso Quell'attacco di questa L'è proprio bello Proprio imponente Proprio imponente Davvero Possiamo usare La tecnica La tecnica speciale Di Di selfie Se non mi muore No infatti mi è morta Esattamente Oddio Non abbiamo nessuno Avevo lasciato L'abilità oggetti A selfie Quindi Quindi niente Vabbè Faremo a meno Per questa battaglia Facciamolo fuori velocemente Allora questo E bando alle cianci Dato che non ho ancora La magia La magia Revive Quindi pazienza Vabbè Peccato selfie È stato È stato bello Averti con noi Non ho Non ho modo Senza oggetti Di Di farti ritornare in vita Selfie Mi spiace Non dovrebbe avere Ancora Moltissima vita Comunque Stare attento A non premere Quando c'è la X Perché se no Mi riazzerà il conteggio Audio Buggato Sta battaglia All'audio Buggato Mi spiace Riguardo invece Al guardia force Che abbiamo preso Siren Non farà danni elementali Tipo Terra Fuoco Ghiaccio Cosa del genere Beh si infliggerà Tutti i nemici Lo status Mutismo Che è Strautile Insomma Contro alcuni Nemici Particolarmente Quelli caster Insomma Ti preoccupare Scuola Adesso ci curiamo E via con un'altra scarica No Mannaggia Vedete che mi ha riazzerato Il conteggio Se provo a premere Troppo veloce Non me li conta Peccato Bam Altri 200 Ancora Ancora in piedi Sai Sei resistente Però eh Proprio Non demordi Dai Adesso lo so Che dovrei demordere Non puoi Ecco Facciamo prendere I danni A Zell Così almeno Se no Avrebbe ucciso Avrebbe ucciso Quetzal Vedete che va Solo 81 di vita La ridaglie Di thunder Questo selfie È là che dorme Guardate Proprio Seccata Terra Potrei usare Uno scan Per vedere Quanta vita Ma sinceramente Mi sembra Uno spreco Di tempo Continuiamo così Guardate se è un po' Noioso Ma nel senso Così è E così ci adattiamo Al suo fascino Comunque anche questo Certo che magari Con selfie viva E la musica La cosa sarebbe stata Un po' più interessante Non dico di chissà Che cosa Ma Morto? Ai dai eh Sei duro a morire Wow Attacco poderoso Proprio LOL Ecco se adesso Dovesse usare Soffio Cos'è Soffio di vento Soffio di tuono Quello che è Probabilmente Quental Ce lo giochiamo Ecco Ciao Quental Ciao Ciao Quental Mi vado di Renzo Cooken E prima di curarmi Adesso Pizzello Questi sono danni Questi sono danni Vai Proprio la chiusura In gran stile Giuro che se sopravvivi A questo Eh Mi sembrava Bye bye Guardate come si dimena In atroci esplosioni E sofferenza Ho fatto un incontro Un po' monotono Eh Lo ammetto Però Fidatevi poi Che nel prossimo episodio Ci saranno cose Molto molto Movimentate Ora vediamo Un po' cosa succede Magari se selfie Torna anche in vita Sì Appassionante Quindi Ok Madonna ragazzi Mi stavo già prendendo Malissimo Pensavo La musica è proprio Buggata Non fa niente Ce la teniamo così Allora abbiamo tenuto Armi mese numero 3 Che ci permette Di vedere determinati Crafting di armi Ma ne parleremo Più avanti Siren La lasciamo Chiamata Siren Normalmente E rieccoci qua Caposquadra B Caposquadra B Ho portato Dei nuovi ordini Questo posto Deve essere lasciato Prima delle ore Diciannove La donate Alla spiaggia Ritirata Ci sono ancora Nemici Non vedi Non te la prendere Con me Io sono solo La porta ordini La ritirata Priorità assoluta Non voglio arrivare Tardi all'imbarco Se sennò Vi mollano qua Semplicemente A che ora Dobbiamo andarcene Te l'ho detto Questo posto Deve essere lasciato Prima delle ore Diciannove La donate Alla spiaggia Dove siamo arrivati Praticamente Prima delle diciannove Abbiamo solo Mezz'ora Tananana Alla spiaggia Svelti Abbiamo solo Trenta minuti Ma cambiate Idea rapidamente Ehi aspetta Ma guarda un po' questo Non lo chiedere a me Forza Andiamo Perfetto Non parliamo con questo Se no ci toglie Dei punti Andiamo giù Adesso ragazzi Dato che comunque Qua poi non La cosa si fa Un po' lunga Direi che adesso Scendiamo Salve Per questo episodio È tutto Mi scuso ancora Per tutti I disguidi Tecnici Ecco Infatti vedete Qua sta chiamando Dei rinforzi Abbastanza inquietanti E la cosa Poi si complicherà Parecchio Perciò Dato che il tempo Non si può stoppare Direi che Salviamo Immediatamente Proprio Instant Perfetto E niente Adesso comunque Che ho salvato Posso Tranquillamente Chiudere Allora ragazzi Mi scuso ancora Per il gioco Che si è buggato Durante il boss Se non c'è stata musica E se alla fine Sembrava quasi Oh mio dio Mi scuso Per aver fatto morire La povera selfie Ma non Non mi aspettavo Che così all'improvviso Ho fatto un po' Io una gaffe E sono stato sfortunato Del fatto che Mi ha ucciso Proprio l'unico Dei tre Che ho lasciato Con oggetti Che gli altri avevano Guardian force Magia Assimila E a lei Invece avevo lasciato Magie E oggetti Assimila E oggetti Quindi Insomma È stato un po' sfortunato Però ce l'abbiamo fatta Anche se è stato un po' noioso Vi assicuro che Il prossimo episodio Sarà molto molto Movimentato Perché l'aiutino Che ha chiamato Il maggiore Bix Sarà un grande aiutone Prendo due minuti Alla fine di questo video Per spiegarvi anche Quale sarà la scaletta Di questa settimana Final Fantasy 8 Questa parte Uscirà lunedì Martedì farò Un video su Airstone Il gioco di carte Della free to play Di Blizzard Mercoledì Farò il secondo episodio Di Divinity Original Sin Guardate a vedere Il primo episodio Se non l'avete visto Dopodiché Ci sarà il secondo episodio Di State of Decay Giovedì Dopodiché Ancora Final Fantasy 8 E sabato Chiuderemo poi Con di nuovo Divinity Quindi Questo è È il piano Per la settimana Spero vi piaccia Vi invito a commentare Come sempre Iscrivetevi al canale Io sono felice Questa è la rubrica Happy Gamer Ed avrei È tutto Bye bye E lodate il sole Anche senza musiche Col gioco che si bagga Grazie a tutti Grazie a tutti